Siamo qui, in questo primo giorno di scuola, per mostrare il periodo complesso che ci troviamo a vivere e per mostrare che tale situazione, già denunciata nei mesi precedenti, è rimasta invariata. Pensiamo di avere tante cose da dire e di non essere ascoltati. Questo è il concetto esposto sui cartelloni che recitano voci presenti e orecchi assenti e che si rivolgono agli adulti e alla classe politica con l'obiettivo di aprire un dialogo e un confronto generazionale su temi di attualità, quali quello ambientale, la crisi economica e sulla loro idea di sistema scolastico. Un flash mob della rete studenti medi del Veneto che si è svolto a Vicenza davanti al liceo Pigafetta. Tanto chiediamo che ci sia un'idea complessa di società, nel senso che ovviamente la scuola non la fanno solo gli studenti, la fa anche il corpo docenti e tutta la componente che lo vive. Quindi da una parte c'è una necessità di vedere cambiato strutturalmente il mondo della scuola e in questo senso ovviamente la voce degli studenti non basta, posto che anche oggi abbiamo sentito la necessità di far emergere quelle che sono una serie di incertezze, di dubbi che abbiamo in questo momento e per il quale vogliamo che venga posta più attenzione.